Una nuova realtà associativa che intende rivolgersi alle vittime di violenza è nata a Paola nei giorni scorsi. Artemisia Gentileschi, questo il nome scelto e non a caso, pittrice famosa ma anche una delle prime donne a ribellarsi nel 1600 al suo stupratore. La denominazione dell'associazione è già una dichiarazione di intenti, una sfida, così come emerso nell'incontro promosso per il battesimo dalla presidente Rosangela Cassano e vicepresidente Simona Nigro, con il patricinio dell'amministrazione comunale. Presente l'assessore alla cultura Sarago Marianna e il sindaco Roberto Perrotta, il quale nel suo intervento ha sottolineato che fino a quando ci sarà una data per ricordare qualcosa a qualcuno ci sarà sempre un difetto di società e cultura. Incalzanti poi i vari interventi che hanno esaminato il fenomeno da ogni aspetto, culturale, antropologico e legislativo, con il professor Filippo Pertuccelli, direttore istituto per lo studio della psicoterapia e della dottoressa Lorita Tinelli, fondatrice del Centro Studi Abusi Psicologici. Una presentazione che ha visto anche il sostegno della senatrice, l'onorevole Monica Cirinna, che non ha fatto mancare la sua presenza con un videomessaggio. E a portare i saluti della Regione Calabria il consigliere Orlandino Greco, che elogendo l'iniziativa ha garantito il suo sostegno ad ogni tipo di sollecitazione richiesta da presentare in Consiglio regionale, sottolineando anche la necessità della formalizzazione di pene certe e il sostegno alle vittime innocenti di femminicidio. L'incontro si è concluso con la commovente e intensa testimonianza della signora Verosquatrito, madre di Giordana Di Stefano, uccisa con 42 coltellate dal suo compagno. Ha una sfida perché ci proponiamo di parlare di violenza con toni nuovi, diversi da quelli un po' edulcorati, cui siamo abituati, ma in maniera cruda. E la testimonianza che oggi ci è stata resa dalla signora Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano, ne è una prova. Così come è emerso dai veri interventi, non ci sono merletti. La violenza è violenza e violenza pura, tra l'altro lei è in doppia veste anche di avvocato che li vive quotidianamente. Quotidianamente e quotidianamente si vivono le lacune, che se non sono dell'ordinamento sono del sistema giudiziario. E sono proprio queste lacune a scoraggiare le donne a denunciare e molto spesso si arriva alla denuncia quando è già tardi. O comunque è abbastanza tardi rispetto a quanto sarebbe successo se la donna fosse stata incoraggiata a non denunciare, perché non siamo in quella fase, ma quantomeno a segnalare i primi sintomi della violenza.